bene, questa è un'altra opera su tela beh, comunque, indovinate che paesaggio è indovinate che cosa c'è su questa opera e che tipo è questa opera quindi, ragazzi ragazze, ragazzi, commentate quindi commentate perciò commentate, iscrivetemi lasciate un bel pollicione in su tanto questo video vi piacerà, vi piacerà tantissimo e ci si becca presto, ragazzi ciao alla prossima